Ci sono molte fiere importanti e gli editori non controllano, non visionano i book di opere, di illustrazione, di progetti libro, però sono importanti perché di solito sono legate a dei concorsi, noi partecipando a questi concorsi possiamo essere selezionati, se saremo selezionati sicuramente saremo anche visti dagli editori e questo è fondamentale perché gli editori più importanti, che non sono di certo i più grandi, ma i più importanti nel nostro settore di solito fanno un giro della mostra, vanno in giro per la mostra con un taccuino, con delle macchine fotografiche per segnarsi le opere selezionate, quindi è importante andare, partecipare, ma anche tentare di proporre le proprie illustrazioni, però secondo me molti lo fanno, alcuni editori prendono appuntamenti, quindi possiamo prenotarci per incontrare un editore, però non credo sia il momento adatto perché vanno di fretta, ad esempio Bologna in Italia è la più importante, tutti gli illustratori o autori vanno con le cartelline piene di progetti, però in realtà l'editore lì va per vendere i diritti all'estero, è una fiera professionale di vendita di diritti, quindi l'illustrazione non viene ovviamente messa in secondo piano, però non è fondamentale, quindi anche se un illustratore viene visionato non avrà sicuramente l'attenzione che meriterebbe. Un consiglio vero per la visibilità, per farsi conoscere non so darlo, ho iniziato con i concorsi e credo sia il modo migliore, è lento come percorso perché dopo una selezione ne serve un'altra, dopo un'altra ne serve un'altra ancora, ci vuole una certa costanza nelle selezioni per farsi notare e far capire all'editore magari interessato che ti segue da tempo che sei pronto per un albo illustrato. La difficoltà dell'albo illustrato è quella di illustrare tante illustrazioni in modo coerente e uniforme ma anche creando ritmo, quindi per l'editore è importante capire, e bastano anche 5 illustrazioni, se riusciamo, se noi illustratori riusciamo a raccontare una storia senza perdere il filo, come ho fatto io adesso, senza cambiare sintesi. Per quanto riguarda la ricerca di uno stile che poi è un argomento che trattiamo molto spesso in classe, a scuola, anche con gli amici illustratori, ne parliamo molto. In realtà io non credo nella ricerca di uno stile, io credo che si raggiunga un certo tipo di disegno, di pittura, di sintesi con la crescita. Per quanto riguarda le illustrazioni abbiamo sempre due problematiche, il nostro ego e il testo che ci propongono. Quindi che succede? Che noi, o almeno io, io lavoro in questo modo, cerco di abbassare il mio ego per metterlo a disposizione del testo. Ora c'è da dire che Esopo, favole, ha avuto un sacco di successo. Questo successo ha fatto girare il mio nome e le mie immagini, quindi ha collegato, ha legato il nome Simone Nerea a un certo tipo di illustrazioni. Però io non mi sento legato in modo indelebile a questo libro, quindi sta riconoscibilità è data più che altro dalla visibilità che mi ha dato il libro, il successo del libro. Per quanto riguarda invece la ricerca di uno stile, io come dicevo non è che ci credo molto, anche perché per il mio caso io mi sento abbastanza ricercatore, mi piace sperimentare tecniche non nuove, diverse, perché gli altri libri che ho realizzato l'ho fatti a matita, l'ho disegnati a matita e quindi non è una ricerca così personale o che comunque porta nel mondo dell'editoria o del disegno in generale grandi arricchimenti. Però mi piace mettermi in difficoltà con tecniche che conosco meno e queste tecniche vuoi o non vuoi cambiano un po' tra virgolette lo stile o comunque la sintesi. Ad esempio con gli acrilici mi viene spontaneo trovare delle forme grafiche ma comunque pittoriche, quindi delle forme circoscritte con invece delle texture più marcate, più materiche. Nel disegno a matita che ho riscoperto negli ultimi due anni ho capito che effettivamente la matita mi permette di arrivare anche a realizzare delle forme chiuse grafiche ma a liberare forse un dinamismo che l'acrilico non mi permette o comunque che io non riesco a sfruttare con l'acrilico. Per le tavole di Esopo la scelta tecnica è stata telefonata, nel senso che io per molti anni ho dipinto ad acrilico quindi in quel momento avevo l'esigenza di far conoscere le mie illustrazioni, le mie opere, i miei disegni in quel modo. Quindi non ho ricercato tecniche diverse, materiali diversi, supporti diversi. Diciamo che ero già arrivato a un certo punto della mia ricerca e quindi sentivo l'esigenza e mi sentivo abbastanza maturo per poter pubblicare e quindi volevo far conoscere quello che realizzavo. Quindi la scelta tecnica in questo caso è stata fortuita perché il testo era ed è adatto al mio modo di dipingere sia per quanto riguarda l'aspetto di sintesi sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Grandi difficoltà non le ho trovate perché noi abbiamo ogni volta che incontriamo, che ci propongono un libro in realtà abbiamo dei problemi, no? Perché ogni libro è diverso, ogni storia ha delle esigenze diverse. In questo caso è abbastanza semplice riuscire a realizzare delle illustrazioni complete e complesse perché ogni pagina è fine a se stessa, ogni pagina racconta una storia. Quindi il ritmo, la composizione e la sequenza delle immagini non è data tanto da un rapporto diretto tra immagini quanto dal colore. Quindi le immagini sono state pensate singolarmente. Poi a cose fatte mi sono reso conto che in più illustrazioni troviamo, trovavo dei colori che richiamavano alcune altre illustrazioni. Quindi l'accostamento e la posizione delle storie rispetto alle pagine che stiamo sfogliando adesso è nata successivamente. Questo non accade però per tutti i libri. Appunto ogni libro è una storia e fortunatamente posso cambiare tecnica in base alle storie che mi sottopongono. Molte volte mi capita di lavorare con matite e pastelli, altre volte ad acritico. Quando mi propongono un testo non è essenziale che tocchi le mie corde, che sia adatto. Anzi a volte cose che non mi riguardano direttamente possono diventare uno stimolo maggiore per ricercare sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda la ricerca del segno, delle forme e delle composizioni. Altra cosa importante per me è mettermi a disposizione del testo. Infatti questa è una cosa che consiglio sempre anche in classe. Perché mettersi a disposizione del testo, abbassare il proprio ego cercando di accompagnare e fondere il testo con le immagini è sicuramente il modo migliore per approcciare alla realizzazione di un albo illustrato. La ricerca delle forme attraverso il disegno per me è strana perché da quando ho lavorato purtroppo, mi ripeto, ma dopo Esopo io ho avuto tantissime commissioni che non mi hanno permesso di ricercare le forme senza storia. Quindi ogni forma che ho ricercato è stata data da un'esigenza che è quella di raccontare la storia che mi veniva proposta. E quindi in parte soffro questa situazione, dall'altra parte mi trovo ad illustrare cose e in un modo che non avrei mai creduto di illustrare. Quindi sono stimolato e allo stesso tempo abbrutito dal mio lavoro. Gli incontri con gli scrittori. In realtà il primo incontro c'è stato solo in quest'ultimo libro, Il Vento, che è edito da Il Leone Verde, editore. Si chiama Alessandro Riccioni e ci conosciamo già da diversi anni. È stato un caso, l'editore mi ha chiamato, mi ha proposto questo testo, mi ha detto che era di Alessandro Riccioni. Ho chiamato Alessandro Riccioni e gli ho detto ciao Alessandro, illustrerò il tuo testo. È stato tutto molto divertente. Da lì c'è stato uno scambio molto importante perché conoscendoci abbiamo potuto chiacchierare a quattro occhi più volte senza peli sulla lingua. Quindi abbiamo risolto, discusso e l'albo dall'inizio alla fine. Per via buio togliti c'è stato uno scambio di mail con Elen Gaudi, sempre coordinato, controllato dall'art director. È stata una fortuna perché avevamo delle idee abbastanza diverse e quindi diciamo che il supporto dell'editore è stato fondamentale, l'art director è stato fondamentale.